I russi sono arrivati una volta anche in Italia, nel 1799, poi se ne sono andati e loro si ricordano ancora quella cosa, il generale Suvorov che comandava l'armata russa che sconfisse i francesi e arrivò a Torino e a Milano nel 1799, per loro è un grandissimo personaggio, Putin voleva regalare una sua statua al comune di Torino qualche anno fa. Dopodiché però come vennero se ne andarono, i russi sono anche arrivati a Parigi nel 1814 dopo che Napoleone era arrivato a Mosca, dopo di allora quindi negli ultimi 200 anni, come dire, noi italiani abbiamo invaso la Russia tre volte, la guerra di Crimea, poi l'intervento nella guerra civile dopo la rivoluzione d'ottobre e poi quando Mussolini ha mandato gli Alpini e tanti altri con le scarpe di cartone, d'accordo? Quante volte la Russia ha invaso l'Italia negli ultimi 200 anni? Nessuna. Noi li abbiamo invasi tre volte, gli inglesi li hanno invasi due volte, la guerra di Crimea e l'intervento dopo la guerra civile, durante la guerra civile, cosa che come leggo sui vostri volti nessuno sa neanche cosa sia qui da noi, ma loro se lo ricordano che dopo la rivoluzione nel pieno della guerra civile fra i rossi e i bianchi tutti i paesi occidentali hanno mandato truppe in Russia per aiutare i bianchi e sono poi state cacciate via con disdoro quando i rossi l'hanno vinta lo stesso, loro se lo ricordano, c'erano anche truppe americane, gli americani una volta nella storia hanno invaso la Russia, i russi non hanno mai invaso l'America, è inutile dire, ecco, i tedeschi lasciamo perdere quante volte hanno invaso la Russia, ecco, di fronte a questo, la Russia, Russia, i governanti della Russia, capite? Sto generalizzando molto, ma si riconosce uno schema e lo schema è dobbiamo essere sicuri, siamo minacciati, siamo circondati da nemici, già varie volte siamo stati invasi, nel caso peggiore diciamo nessuno ci vuole bene e quindi, e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo difenderci e magari anche allargarci per difenderci, badate bene, non sto dicendo che quindi se uno la guerra la fa per questi motivi fa bene a farla, quello è tutto un altro discorso, in un mondo in cui si fosse riusciti davvero a eliminare la guerra, il primo che decide di farla di nuovo meriterebbe davvero che tutti quanti si qualizzassero contro di lui, vedete voi se siamo in un mondo in cui siamo riusciti a eliminarla, la guerra, ecco, ma non è questo il punto, non è affatto questione sia chiaro perché poi questi sono quei discorsi che poi semplificati su qualche giornale diventano ecco hai giustificato, al storico non importa niente stabilire che quello era molto cattivo oppure no, allo storico importa capire cosa voleva fare quello lì, perché ha fatto quella cosa, cosa aveva in testa, capirlo importa allo storico e dovrebbe importare anche ai politici naturalmente diciamo, però ci sono dei casi in cui magari capire troppo ti impedisce di fare quello che invece vuoi fare, visto che c'è l'occasione, che la tua gente capisca troppo ti impedisce poi di far passare certe cose e quindi non tutti hanno l'interesse al fatto che poi si capisca come stanno le cose.